Grazie a tutti, prendiamo un attimino la parola per dare un piccolo riconoscimento alle persone e ai colleghi che ci sono stati vicini che hanno capito la missione di Cruz, che hanno sposato la missione di Cruz e insieme a noi stanno camminando e stiamo andando verso il futuro e sempre grazie a loro, grazie alla loro missione stiamo portando avanti il nome di Cruz in tutto il mondo. Ecco che allora voglio iniziare a premiare uno dei nostri collaboratori che ovviamente in questo momento non sa nulla, quindi questa è una cosa molto bella, chiamo qui tra noi il signor Remo Dario Lombardi, che ovviamente ha tolto giacca, cravata e tutto qua. Adesso dobbiamo lì, lì, meglio, meglio o meno la giacca, qualcuno mi porta la giacca di Dario Lombardi, vada vada. Vada vada. Ecco, produciamo l'inglese per... Alcattopanio, vada vada, le miei e le donne, le tue, 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 le tue. Grazie a tutti i nostri spettatori e a presto a tutti i nostri spettatori e a presto a tutti i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori. Sono molto fiero, mi vado molto fiero, mi stiamo crescendo, siamo tutti i giorni impegnati per cercare di migliorare e risolvere le nostre soluzioni per essere sempre più competitivi. Grazie a tutti i nostri clienti che ci danno una mano e un supporto a portare a termine questa missione importante per noi. Grazie a tutti i nostri spettatori. 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 Per cui mi raccomando aspettiamo gli ordini. Dopo questa cena ragazzi aspettiamo gli ordini. Grazie a tutti i nostri spettatori. Grazie Grazie Ok, you see, he's a little bit, little bit, no serious, but more, more serious Applausi 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 And now, for the last, but not the last person che è importante per il mercato francese, io voglio sentire il signore Pacheco per l'ora. Grazie, grazie a tutti, è molto felice per una società italiana, in traduzione, e ciò che voglio dire è che è un grande buonere di lavorare per gli italiani, perché voi siete sempre, per noi franzai, una riferenza nel design, quindi voi siete veramente il paio di avventure, tutto quello che faccio è successivo. Grazie. Grazie. La famiglia Grupps si è allargata da pochi mesi e qui con noi, anche se non ci sta ascoltando perché probabilmente non pensa di essere nominato, non siamo al grande fratello, ma stiamo facendo la nomination di una new entry, Riccardo Svotto! Now we want to hear Mr. Riccardo, I know that we wait, we wait you, no, don't worry, don't worry, Mr. Riccardo is area manager for UK markets. Applausi. Grazie. Applausi. Grazie. Beh che dire, innanzitutto ringrazio l'italiano, sono emozionato, non me l'aspettavo, nonostante abbia un'esperienza di marketing e comunicazione come al tavolo della stampa, sanno che parlo molto, è difficile farlo di fronte a questo bel pubblico, ma più caldo di pubblico e collaboratore direi, non me l'aspettavo, grazie. Grazie. Il mio ingresso è stato forzato da questo personaggio qui di fianco che mi ha voluto a bordo e io sono lieto di essere a bordo della Trux e di iniziare a far parte di questa famiglia, sia a livello collaborativo ma più che altro anche come rapporto umano con tutti i collaboratori che sono, come avete notato, tutti giovanissimi e comunque con grandi capacità. Quindi io un applauso lo farei più alto al loro. Di conseguenza mi auguro a me stesso una cosa che stasera non pensavo neanche di meritare perché ovviamente io, essendo una new entry, inizio da zero e quindi con delle prospettive quasi non calcolate, diciamo. E quindi sarà il mio impegno cercare di aiutare la crescita della Trux in un modo notevole, spero, specialmente nei mercati della lingua anglosassone, ecco. E quindi vi fare del mio meglio. Now I speak in English just for some friends and obviously I speak fluent English, maybe better than me. Like I said, well, maybe, many people don't know but I'm living in UK at the moment for all of the market so my English is not perfect but it's an Italian Maccheroni English way. I like to do this way, people like the way that I speak, I hope so. David, do you confirm that my English is quite ok? Ok, thank you. Very short things about myself, I'm pretty new in the, in the Krups family. I'll be taken forward in June this year to follow the anglosassone market, so England, UK, Ireland, Sweden, Denmark, Norwich, and maybe interview to other countries and we will see where we will go. I hope to put myself with all my heart in this business and create some good turnover to increase the capacity of a Krups company for us to work. And I will do my best. Thank you very much indeed and I wish you a brother to me. Well, of course, like I said before, we are surrounded by an excellent staff, it's a young staff, very qualified in some way. You can see it and all the people here attending on the left side of this room. I will please, yes, exactly. You deserve me, I do have some joy. We are proud of all of us that you will be here. Thank you. So now we invite all of you here at least. acho. Thank you so much. So... Adesso invitiamo qui con noi a unirci tutto il nostro staff che sarà ovviamente il vostro riferimento. Io anzi direi che potete introdurli ad ognuno di loro. eccoci qua lo staff groups più che staff io lo definirei il team groups proprio perché cerchiamo tutti di darci una mano tra di noi e cerchiamo di dare il massimo per i nostri clienti che siete voi quindi un grazie ancora a voi che siete qui e in ordine progressivo senza importanza Serena Alessandro Michele Fabio Jonathan Manuel Davide Carlo Francesco è ancora a scuoto che ha appena salito a bordo grazie ancora sull'involuzione grazie thank you very much thank you very much for this dinner and the time that you spend with us it's very glad for us that you participate this is a big event for the group's 50th anniversary that is very very long time thank you very much for all their congratulations applause Grazie per lui è molto importante che tutti i clienti credano in la compagnia di gruppo e le persone che partecipano in la compagnia di gruppo e anche tutti i clienti che credono in gruppo Grazie Ringraziamo ancora nostro padre Scarabino Antonio che grazie alle sue abilità le sue capacità e la sua costanza nel suo lavoro ci ha aiutato a iniziare questa attività ancora dal 65 e permettere a me e a mio fratello Fabio di continuare un'attività che oggi siamo insieme a lui anche se non presente a festeggiare insieme a lui che sicuramente ci penserà da casa i 50 anni della sua azienda Crux Vi ringraziamo ancora tra un po' la assaggeremo tutti speriamo sia buona e vi ricordo inoltre che la cena ci siamo affidati alla brigata Sadler sono chef stellato Michelin e continuiamo la serata con il taglio della torta grazie a Crux 50 anni Grazie 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 Grazie